Musica Benvenuti, guardiamo insieme le previsioni del tempo per domani, sabato 5 gennaio. 20 da nord al sud e sulle Adriatiche, rovesce su Puglia, Calabria Meridionale e Messinese, neve sui confini altotesini, altrove sole e pochi nubi, ma attenzione, ancora nebbe sul Veneto Toscana, peggiorerà su Abruzzo, Molise e Puglia nuovamente la sera a sud Calabria e Messinese, tempo stabile fino al 12-15 gennaio, un po' di aria fredda verso le Adriatiche e il sud, braccio di ferro tra l'anticiclone atlantico Adam e l'orso siberiano sulla Russia che dovrebbe farci visita a metà fine mese. L'anticiclone tenderà a indebolirsi sull'Italia centro-meridionale sotto la spinta di correnti più fresche che saranno accompagnate da un rinforzo del vento di tramontana. Tra il pomeriggio e la sera si attendono pertanto diminuzioni delle temperature accompagnate da nubi soprattutto sui monti. Il cielo in Campania sarà sereno al più poco nuvoloso. Nel corso della giornata arriveranno nubi da nord-est che interesseranno soprattutto i monti dell'entroterra. Temperature in diminuzione dalla sera, venti moderati da nord-est. Grazie. Grazie. Grazie.